E' la luce del silenzio qua alla Galleria dell'Immagine di Rimini con Maurizio Minarini che approfitta evidentemente di 50 anni di attività per raccogliere una parte della sua lunga e importante storia pittorica. Come nasce Minarini Pittore? Minarini Pittore nasce un po' da lontano perché sempre ho avuto dentro l'anima il desiderio di pastrocchiare ma la mia prima mostra è partita quasi da un ricatto. Un amico mi disse ti aiuto a fare una mostra, tu mi aiuti a studiare perché volevamo entrare all'università di sociologia a Trento. Lui mi aiutò per la mostra e io lo aiutai a studiare e tutti i due andavamo a Trento a studiare. E fu una grossa emozione perché si dipingiva da ragazzini a casa, io ero piena sposato, ma fu una cosa molto molto bella. Ho continuato questo mio modo di dipingere anche perché mi sono poi accorto nel tempo che per me la pittura non dico è una medicina ma è un modo per mettere pari tante cose che nella quotidianità della vita non vanno. Oggi inauguriamo quattro personali molto rilevanti nello spazio di uno dei pittori riminesi più attenti e sensibili. Qui si parla di una pittura che cerca un rapporto tra terra, mare e cielo con un tentativo di sintesi molto elegante e molto ben riuscito. Chiaro 50 anni sono lunghi, 50 anni anche lì ragazzini ci vuole la volontà di essere fedeli perché il mode, stili, interessi particolari possono anche farti cambiare il modo di lavorare. Io sono sempre stato fedele a questo mio modo di sentire perché non ho fatto altro che tradurre gli stati d'animo, i colori che avevo dentro e le tensioni, anche le tensioni che avevo dentro.